Reduce da due paregi consecutivi, la Genova Calcio vuole tornare alla vittoria per raggiungere la zona play-off, distante due punti. Situazione opposta per la Voltrese, che deve bissare il successo di domenica per allontanarsi invece dalla zona play-out. La prima occasione è al 14esimo, Voltrese in avanti con Boggiano, che serve di monta, conclusione parata da Secondelli senza problemi. Ci prova Boggiano 4 minuti dopo, ma Secondelli sventa di nuovo il pericolo. Ancora la Voltrese a provarci, sempre Boggiano e Limonta a far partire l'azione, poi Sembe recupera la palla e va al tiro, che si schianta sul muro avversario. Proteste del numero 7 per un presunto fallo di mano, ma l'arbitro De Martino di Napoli non fischia il rigore. A 10 minuti dal fischio del primo tempo, la clamorosa occasione della Genova Calcio. È ottima l'intesa tra Dentici e Parodi, ma il numero 9 non ce la fa. Passano 3 minuti e c'è un calcio di rigore per la Genova Calcio. De Martino indica il dischetto e ammonisce Termini per un fallo su Traverso. Batte Parodi che non sbaglia. 39esimo minuto, 1-0. Si passa così al secondo tempo, riprese montato da Samuele Ragusa. E dopo neanche un minuto dall'inizio della ripresa, la Genova Calcio è già in avanti. Dentici la mette in mezzo per Parodi, che viene anticipato da Termini. Raddoppio della Genova Calcio, che non tarda ad arrivare. Bennati, come sempre, ha l'idea giusta. Serve Traverso, che trova il gol del 2-0. Giallo-Blu a provarci al quarto minuto. Virzi dalla sinistra per Siligato, che ci prova di testa, ma il pallone è alto sulla traversa. Ottavo minuto, corner per la Genova Calcio. Dalla bandierina, Ilardo cerca Traverso, che con sicurezza cala al tris. Risposta della Voltrese due minuti dopo. È attento Secondelli e si salva dal tentativo di Siligato. Seconda occasione per il numero 18, entrato nella ripresa. Somma di ammunizioni per Termini, Voltrese e dieci uomini per gli ultimi 25 minuti. A nove minuti dal termine del match ci prova ancora Siligato, ma il suo tentativo sfiora al palo. Tre punti fondamentali per la Genova Calcio, che oggi riconquista il secondo posto in classifica.